ok prima discesa da bormio bormio 3000 in fondo davanti a noi santa caterina dal curva questo è tutto il gruppo dell'orto e cevedale non ho capito no perchè la batteria si scarica sto freddo chi cambia poi prima o seconda vieni questa per il mio amico pupone è la partenza della pick to creek perchè il muro invece della scelvio della discesa libera è dall'altra parte la facciamo dopo adesso facciamo questo pezzetto di qua quindi qua chiaramente ci dovete venire in posizione da discesa libera questa qua ti fa la curva pupone che dici che la possiamo fare? portandola la parte meno ripida questo è una bella confusione ecco bormio giù in basso vediamo se l'avvocato santese arriva eccola lento pede col suo stile inconfondibile e voilà ci siamo com'è questo primo tratto della pick to creek ti piace? disordinato disordinato va bene molto bello vedi molto spazioso tutto sciabile procediamo andiamo verso la seggiovia che dici? vediamo qui c'è un altro bel pezzo bellissimo questo tratto molto sciabile i miei stocli rendono molto bene in queste condizioni di vista i miei stocli rendono molto bene in queste condizioni di vista il fondo è un po' morto molto divertente qui c'è da decidere se fare la variante o proseguire facciamo la variante andiamo di là? via facciamo questo muretto dai penso che invece la pista della pick sia di là vabbè anzi no la variante la facciamo dopo ok ho paura però che questa poi finisce la seggiovia eh io vorrei scegliere un po' di più comunque vediamo dai vediamo dai vediamo dai vediamo dai vediamo dai qui qui al cimino dove siamo arrivati prima torniamo di qua si 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 poi è tutta circondata dalle montagne si ma è Sembra cortina Poi in posizione prende il sole sul versante della montagna solleggiata. Via! Questo è un muretto, però questo non si sa che la visca, sicuramente non si sa. Questo è un muro abbastanza ripido. E' molto forte. Passiamo un altro pezzetto fino a questa teggiudica. Ok? Via! Molta gente. Bisogna guardare bene dove si va. E' vicino molto adatto per la conduzione. E' vicino molto adatto per la conduzione. Decidi quale variante puoi fare di qua di là. Di qua mi sembra che c'è meno gente. Questa variante mi sembra più piacevole. Dai! Andiamo! 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 Ah, che ripresa l'avvocato Santese! Questo bel step di pista Va bene Perfetto Cos'era più bella Dovevo riposare? Cos'era più bella 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 Cos'era più bella